È ufficiale, avrà la presidenza della Commissione Europa, una commissione davvero molto particolare, ma è importante anche. Sì, è importante perché molti finanziamenti vengono dall'Europa per il Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda naturalmente anche il piano infrastrutturale e l'agricoltura, ma soprattutto anche perché la Toscana ha scelto da molti anni di non essere più al centro dell'Europa, di avere un ruolo defilato. Invece oggi l'Europa definisce il quadro delle nostre vite, oggi l'Europa prende scelte fondamentali, oggi l'Europa impone un'austerità che sta facendo precipitare la nostra economia nella depressione. La Toscana potrebbe avere un ruolo per cercare, assieme ad altre regioni del nostro continente, di invertire questo ciclo. Ad esempio una proposta potrebbe essere quella di avere un'istituzione europea che sia in grado di finanziare un vero piano di investimenti. Che oggi noi stiamo dando attraverso il quantitative easing, un'enorme quantità di soldi alle banche private. Proviamo a costruire un meccanismo che consenta di far ripartire un'economia, un'economia verde, un'economia sostenibile nei nostri territori. La Toscana deve sapere recuperare un ruolo in Europa che purtroppo non ha da tempo.